Anche perché domani voglio leggere, Giorgio, i giornalisti che si inventano divisioni, polemiche. Siamo qua e siamo belli come il sole. Poiché hanno detto che eravamo come Romeo e Giulietta, garantisco che non faremo la stessa fine. Anche perché lei a casa ha qualcuno che l'aspetta, io a casa ho qualcuno che mi aspetta. E quindi, stop!